Eugenio Montale ha scritto di Genova, una città che è una striscia di 20 chilometri, da Voltri a Nervi e a mezzavia il grosso nodo centrale. Vista da un aereo deve sembrare un serpente che abbia inghiottito un coniglio senza poterlo digerire. In effetti il grande problema della città stretta tra le montagne e il mare è la mancanza di spazio. Genova, è stato scritto, è un atto di prepotenza dell'uomo sull'ambiente naturale. La città si è sviluppata per la sua posizione di nodo rispetto alle correnti di traffico, ma alla posizione corrisponde un luogo impossibile per crearvi un centro urbano. Lo sforzo che si sta compiendo oggi è di strappare alla natura nuovi spazi, approfittando dei tracciati aperti tra le colline, dai torrenti Polcevera e Bisagno, per insediarvi industrie e quartieri urbani. Il proposito, certamente ambizioso, è di riequilibrare la città, darle nuove vertebre, rimodellandone le periferie. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'espansione del porto e la crescita di nuovi quartieri dotati delle necessarie infrastrutture. In collaborazione con l'imprenditoria privata, sono stati fatti investimenti per centinaia di miliardi ed è stata raggiunta la soluzione di problemi spinosi come quello della raffineria Garrone, che sorta al centro della Val Polcevera, verrà progressivamente ridotta fino alla eliminazione. In quest'area poi saranno agevolati tutti gli insediamenti industriali.